Se sei alle prime armi e pensi che l'hobby delle piante sia un hobby molto costoso oppure sei già speso un sacco di soldi in piante e vorresti spenderne un pochino meno questo video fa per te perché oggi parliamo di piante low cost, piante a basso costo quindi direi bando le ciance via col video Ovviamente prima di scoprire tutte le piante a basso costo vi chiedo di mettere un like al video e ovviamente di seguirmi attivando la campanella per essere avvisati per i nuovi contenuti e non farvi scappare neanche un video L'argomento di questo video l'avete scelto voi tramite il sondaggio che vi ho fatto su Instagram avete scelto piante a basso costo direi a grande grandissima richiesta oggi parliamo proprio di questo argomento perché è un hobby quello delle piante che non deve essere per forza super costoso Per darvi un servizio migliore ho fatto un salto al garden nel mio garden in fiducia a Reggio Emilia e mi sono andata a controllare qualche prezzo giusto per darvi informazioni precise Ho appoggiato qui alcune delle mie piante low cost vi parlerò anche delle mie piante ma alcune hanno anche alcuni anni come per esempio il potos e quindi magari i prezzi non erano aggiornatissimi mi sono andata a dare una controllata vi parlerò di piante da appartamento e magari a fine video vi darò una qualche indicazione anche sulle piante da esterno visto che siamo alla fine dell'inverno quasi all'inizio della primavera e si trovano già piante che non gelano ma che hanno delle fioriture nel garden ho trovato delle piante a partire da 1,50 euro che sono le succulente queste hanno dei prezzi molto 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 abbordabili e il prezzo lì varia ovviamente per dimensione del vaso quindi vi faccio vedere che ci sono delle succulente come queste che costano 1,50 euro poi ce ne sono altre da 3,50 euro e poi queste qui ancora più grandi costano 4,50 euro quindi sono tutte piante sotto i 5 euro altre piante sotto i 5 euro che ho trovato che ho acquistato io personalmente sono il potos adesso questa è una talea di una pianta che ho curato e che mi hanno lasciato questa è la talea del mio logo guarda quanto è cresciuta però il potos che ho qui che adesso vi faccio vedere questo potos che io ho tagliato più e più volte facendo tantissime talee che poi ho regalato ecco questo potos qui l'ho acquistato vi controllo le date e ve le scrivo ed era molto molto piccolino l'ho acquistato per 4 euro quindi in pochissimo tempo il potos vi diventa veramente molto grande e molto folto se poi lo potate si rinforza ancora di più crescendo ancora di più quindi una delle piante che io vi consiglio perché sono veramente low cost è il potos un'altra pianta che ho pagato veramente pochissimo è lui il mio ficus l'ho pagato 4 euro era più o meno aveva 6 foglie quindi non ci sta neanche nell'inquadratura anche il ficus ha un prezzo ottimo questo è quello che avete visto tante volte nelle storie quando l'ho acquistato arrivava qui aveva veramente 5 foglie in croce vi metto anche qua la data perché devo andare a controllare quando le ho fatte e in pochissimo tempo guardate quanto è cresciuto ok si è triplicato direi nel giro di veramente pochissimo tempo questo l'ho pagato 4 euro perché nel garden dove vado c'è un reparto di piante verdi miste d'appartamento a 4 euro e 50 e questa era fra quelle una cosa che dovete considerare quando valutate se acquistare una pianta o no cioè in base al prezzo è anche la dimensione del vaso per esempio l'ho visto nel tradescanse quando sono andata a acquistare la mia tradescanse c'erano delle mini il vasetto era veramente grande così grande come questa pilea c'era un vasetto la tradescanse a nanuc nel vasetto 6 costava 5 euro la nanuc nel vaso 10 costava 7 euro quindi era il doppio della dimensione per 2 euro differenza quindi ecco valutate anche questo controllate quanto è grande il vaso se ci sono dei vasi o delle piante leggermente più grandi di solito si trovano almeno il mio garden è strutturato così vanno in fascia prezzo nel senso che ci sono ficus in ogni corsia e dal meno caro al più caro ovviamente il più caro è quello più grande quindi valutate anche la dimensione del vaso quando dovete guardare quanto costa una pianta la pilea questa pilea qua l'ho pagata 2 euro ce ne erano alcune nel vaso leggermente più grande che costavano 12 ho detto la pilea cresce abbastanza velocemente infatti sta facendo tante foglie quindi me la compro piccolina come crescono molto velocemente alcune succulente come queste queste crescono molto velocemente quindi qua potete spendere veramente 1,50 euro perché in poco tempo avrete delle soddisfazioni queste sono le due che vi ho già fatto vedere nei video precedenti come dicevamo i ficus hanno dei prezzi abbastanza convenienti queste sono talee però considerate che la pianta da cui le ho fatte che è il ficus elastica là dietro che ho potato il ficus grande lo avevo pagato 12 euro quindi una pianta molto alta l'ho pagata veramente poco e quindi queste talee ovviamente mi sono uscite gratis erano talee da foglia quindi le piantine che voi vedete adesso sono spuntate tutte le foglie che avete in più sono spuntate da talee di foglia singola penso di aver fatto anche qualche storia qualche tempo fa e questa è in idrocultura vi parlerò anche di idrocultura in un prossimo video anche se non ne ho molte di piante però mi trovo bene mi piace mi dà qualche soddisfazione ma io preferisco la terra chi mi segue lo sa altre piante low cost da 2,80 euro ve le faccio vedere immediatamente sono quelle che ho trovato al garde eccole qua sono fittoni e peperomie in questo caso vedete anche il falangio poi ci sono le tradescansia un sacco di fittoni in tutti i colori peperome ce ne sono anche tante poi abbiamo l'emarante qua in questo caso due versioni a volte ce n'è solo una ma non importa poi accanto noi abbiamo già i vasetti da 4,50 che come vedete sono notevolmente più grandi questi sono già vasetti 10 il falangio che in questo caso forse vi converebbe comprarlo a 4,50 perché è molto più grande ficus benjamin variegato poi abbiamo delle calatè questo è molto molto interessante la pianta del caffè che adesso vi faccio vedere che è proprio accanto al tronchetto questa è una dracena anche questo è interessante la dracena cresce un pochino più lentamente calatè anche questo è molto interessante dietro c'era anche l'orbifoglia e tutta è una serie di defembacchia felci questo è un filodendro molto molto a questo me lo sono portata a caso vi devo dire la verità molto molto interessante insomma sono piantine che queste soprattutto queste felci hanno c'è anche la bluestar non so se avete visto hanno una crescita abbastanza veloce la sparagus eccetera eccetera queste vengono tutte 4,50 e là c'è mia mamma sulle orchidee ho già fatto degli altri video siccome le falenopsis sono orchidee che a me piacciono molto e ne ho diverse alcune io non mi vergogno a dirlo le ho comprate l'ikea ne ho una dell'ikea e queste all'obi è ovvio che dovete sempre valutare la differenza che c'è fra l'orchidea che voi acquistate al garden da 25 euro e quella che voi acquistate all'obi per 7,90 euro questo era anche in saldo ok intanto se siete alle prime armi vi sconsiglio vivamente di comprare piante nei supermercati perché sono piante che hanno degli stress non vengono innaffiate correttamente magari vengono lasciate senza acqua per giorni oppure vengono irrigate troppo perché non hanno tempo i commessi di stare dietro alle piante i carrelli spesso vengono dati in conto vendita e quindi quelle piante possono essere piante in sofferenza ma se voi siete all'ikea e il carrello delle orchidee appena arrivato ovviamente la potete acquistare è ovvio che se io controllo le foglie le foglie sono già grinziose io quella pianta non la compro neanche se è in saldo questa era penso di averla pagata a 4,50 euro perché mi ricordo che ho detto vabbè ma per 4,50 euro non la posso lasciare lì e sta già facendo uno stelo floreale quindi è la seconda fioritura cioè l'ho comprata fiorita aveva già il fiore qual è la differenza fra queste orchidee e quelle del garden? beh innanzitutto quelle del garden hanno un clima ottimale quindi vengono curate dagli addetti del settore in modo corretto non sempre ma spesso in modo corretto ma soprattutto tante volte hanno più steli ok se voi ci fate caso le orchidee con uno stelo hanno un prezzo le orchidee con due o tre steli ne hanno diversi hanno dei prezzi più alti ovviamente perché sono piante che hanno delle fioriture più belle ok più resistenti più grosse questa devo dire che non mi ha mai dato problemi e sono molto contenta però l'ho acquistata che era sana quindi quando acquistate anche le piante controllate sempre che siano piante che stanno bene io non andrò mai a lì che a comprare una pianta che ha già le foglie marroni o ha le foglie in appassimento perché quella è una pianta che è stata tenuta al buio per diversi giorni e che nel 90% dei casi morirà quando la porterò a casa ok le piante che hanno subito degli stress da luce o da irrigazioni troppo abbondanti o troppo scarse ovviamente sono più soggette anche a patologie funghi malattie muffe insetti possono essere sicuramente in un terriccio che non è quello adeguato quindi è ovvio che se il garden ve la vende 25 euro e l'ikea la trovate a 9,90 non possono essere la stessa pianta non hanno ricevuto le stesse cure e con molta probabilità avranno da un prezzo più basso avranno meno foglie e meno fiori ok questo perché tante volte mi sento dire ah ma io il garden non li spendo 30 euro per un'orchidea siamo tutti liberissimi di acquistare dove vogliamo ricordatevi solo che se il garden è serio perché ci sono anche garden non seri ma se il garden è serio le piante sono più sane di solito io mi sono fatta un giro anche nei supermercati di reggio non vi ho fatto il video perché sennò veniva troppo lungo e lo stesso garden dove io vado ad acquistare vende anche ai supermercati non a tutti ma a molti e devo dire che le piante sono molto belle però hanno lo stesso prezzo quindi se pensate di pagarle meno al supermercato vi dico che non è sempre così solo che siamo certi che al supermercato non c'è nessuno che le cura con amore come dovrebbe succedere al garden l'unica cosa che io ho sempre sconsigliato di fare è acquistare il terriccio al supermercato perché i terricci non sono di buona qualità è inutile rassegnatevi i terricci buoni vi danno ma questo ve l'ho già detto in diversi video vi danno salute alle piante quindi il buon terriccio è il 90% della buona coltivazione di una pianta ma non è questo il video adesso vi parlo delle oia una pianta nel frattempo è arrivato paride una pianta che sta iniziando a costare un po' meno è la oia oia carnosa ovviamente anche qui ce ne sono tantissime specie ma ho visto che la princess la queen costano in media 9 euro questo era un vasetto microscopico che poi mi è cresciuta la pianta nel tempo l'ho pagato 6 euro adesso le ho viste a 9 euro però penso che siano passati già tre anni è un po' che ce l'ho questa pianta il primo anno non mi è cresciuta perché ho sbagliato irrigazione si era completamente bloccata e ve l'ho anche detto forse nel video delle oia è comunque una pianta che è facile da coltivare e si trova a dei prezzi veramente competitivi adesso prima era un pochino più complicato trovarla però devo dire che le oia stanno entrando nel mercato molto più velocemente una pianta che vi darà grandi soddisfazioni questa è la ceropeggia del video che ho fatto l'anno scorso quindi questa è cresciuta così tanto in un anno ma in realtà io l'ho potata più volte perché ho provato a fare delle talee adesso sperimenterò un altro metodo perché le talee con questa pianta non mi sono venute benissimo non sono molto soddisfatta dei risultati però ecco questa è una piantina che la trovate intorno ai 6 euro molto piccola è una pianta che è abbastanza semplice da curare e io ve la consiglio tanto quindi la ceropeggia voody è bellissima sempre nella famiglia dei ficus a basso costo diciamo c'è il ficus pumila questa pianta qui cresce molto velocemente non ha un costo particolarmente basso penso che questa di averla pagata intorno ai 4 euro e 50 penso di averla pagata 4 o 5 euro comunque che per essere piccola così non è poco ha però una buona caratteristica che cresce molto velocemente quindi se trova l'ambiente umido e le date i giusti concimi anche in inverno la crescita è comunque abbastanza veloce quindi dalla pianta piccolina ecco qui potete optare per una pianta piccolina spendendo un po' meno e magari non comprarla già grande che vi viene a costare un pochino di più quindi anche questa è low cost non tanto per il prezzo ma per la velocità di crescita vi mostro adesso alcune piante queste per esempio sono tutte peperomie e sono tutte a 7 euro pianta del rosario 6 euro un po' caruccia 6 euro anche per l'aloe vera ma in questo caso la pianta è molto più grande un bel vasetto almeno 12 dovrebbe essere quindi ottima ottimo prezzo qui a Reggio Emilia queste ripsalis a 8 euro vaso 12 bello grande bellissime piante ottimo prezzo tempio di Buddha 4,55 euro le oia carry ci sta ovviamente questo è quello che vale per le piante da interno ma ci sono tantissime piante da balcone anche qui a basso costo ve ne faccio vedere alcune a partire da quelle che si trovano in questo periodo ma poi parliamo anche di quelle primaverili partiamo con le primule a 90 centesimi garofanino piccolo 2,80 euro il vasetto che è più del doppio 4 euro quindi buono e poi abbiamo le gerbere che sono arrivate da poco e costano 6 euro euforbia mili 5 euro fioritura invernale top poi abbiamo anche il dello sperma 2,80 euro tra le piante che possiamo comprare acquistare in primavera estate ci sono poi tutte quelle piante che vanno a fioritura estiva e che sono anche qui le possiamo trovare con un costo abbastanza accessibile che sono le roselline nane le roselline nane rimangono nane quindi se avete delle balconette io le ho da 5-6 anni sono sempre belle le roselline hanno un costo che si aggira intorno ai 5 euro e non gelano quindi sono praticamente piante perenni e ci sono anche i gerani vi ricordo che i gerani li dovete mettere a riparo nella stagione invernale perché ovviamente temono le gelate e i gerani hanno un costo medio che si aggira tra i 2,90 e i 5,6 euro questi sono a pianta questi sono i prezzi che ci sono ovviamente sempre per i gerani zonali classici se si va su del botanico o si va su dei mix particolari quindi dei libri particolari i prezzi possono cambiare una domanda che mi avete fatto quando vi faccio vedere le fiere a cui vado mi avete fatto notare che spesso alle fiere le piante costano di più che nei garden beh questo è presto spiegato perché chi vi vende le piante ovviamente ha delle spese come lo spostamento quindi benzina e autostrada perché magari il garden è a Vicenza e voi siete a una mostra mercato a Bologna hanno le spese di albergo quindi vitto e alloggio e hanno tutte quelle spese che sono inerenti alle fiere perché andare a fare le fiere ha un costo non ve lo fanno gratis quindi affittare il posto e pagare il posto per questi giorni quindi è possibile che le piante costino leggermente di più però dovete considerare che a queste fiere spesso ci sono piante che non trovate nei garden normali e quindi vale la pena magari invece che spendere voi i soldi per andarvi a comprare non so l'orchidea particolare fino a Vicenza o Verona vi conviene comprarla lì maggiorata di un euro o due perché comunque vi evitate voi il tragitto e la spesa della benzina dell'autostrada quindi è ovvio che magari a una fiera non mi vado a comprare la tradescanzia per dire che ha un costo accessibile e si trova anche ormai nei supermercati però se cerco delle piante particolari allora sono cosciente che posso pagare leggermente di più però mi risparmio anche io il viaggio per arrivare fino al garden che magari è in Germania o il garden che magari è a Varese o Vicenza se abito a Reggio Emilia come per esempio abito io quindi valutate sempre questa cosa quindi è normale non vi preoccupate insomma non è che vi stanno truffando e che alle fiere le piante costano di più dovete considerare che voi pagate magari due euro in più l'orchidea però non magari risparmiate sulla spedizione perché dipende sempre questo vivaio da dove arriva ok quindi sia ad acquisto nelle fiere io sono pro ho anche acquistato ovviamente c'è un metodo che ci consente di avere piante addirittura gratis come sapete già se mi conoscete mi seguite da un po' io adoro fare tale fare la talea della nostra pianta ci consentirà di non solo avere la stessa pianta identica perché la talea a differenza del seme riproduce la stessa pianta geneticamente identica quindi ci consentirà di avere una pianta in più ma non solo ci consentirà di avere una pianta uguale nel caso la nostra pianta per qualsiasi motivo ci dovesse abbandonare quindi fare la talea mi consente di avere una pianta in più in modo gratis ma non solo mi consente anche di avere nuove piante perché io la mia talea la posso scambiare con altre persone che hanno magari talee di piante che a me mancano quindi è un buon metodo per avere nella community di plant lovers piante nuove a costo zero se mi seguite su instagram vedete spesso storie in cui io raccolgo anche i semi dei miei fiori dei fiori che io ho nell'orto o in giardino li conservo e li semino a primavera per avere nuove piante sono tutti metodi questi di propagazione delle piante ma non solo con la raccolta dei semi non ho la pianta uguale a quella che ho già quindi posso avere una pianta di colore diverso con una fioritura o con delle caratteristiche diverse della pianta madre quindi ecco questo è un altro ottimo motivo per raccogliere le semente dalle piante dai fiori che noi abbiamo ovviamente si parla di piante che fioriscono come non so per esempio la cosmea il settembrino ho raccolto semi anche di iris di eleboro eccetera eccetera insomma quindi questo ci dà la possibilità di avere nuove fioriture e nuove piante anche la divisione di una pianta e quindi dei rizomi della pianta è un metodo di propagazione che ci garantisce una nuova pianta identica ovviamente alla prima come per esempio ho fatto con la mia orchidea la mia colmana radiana che vi ho fatto vedere nel reel su instagram ecco questa è un ottimo modo per propagare per avere nuove piante sempre da scambiare oppure da avere proprio come pianta in più aggiuntiva che dirvi ancora acquistate con consapevolezza quindi cercate di capire se siete in grado di gestire quella pianta compratene poche per volta se siete alle prime armi ma non compratene soltanto una soprattutto se vi volete approcciare al mondo delle orchidee bene questo video è giunto alla fine io ti ringrazio per averlo visto fino a qui ti ricordo che mi trovi anche su instagram e ovviamente se non l'hai ancora fatto seguimi attivando la campanella per ricevere le notifiche quando ovviamente pubblicherò nuovi contenuti io ti mando un bacione ti ringrazio di nuovo e noi ci vediamo la prossima settimana dalla Patti è tutto